Buongiorno Nicoletta, il vostro bacino d'utenza interprovinciale va più o meno da Palinuro a Vibo, ma come dicevo in premessa concentriamoci sulla parte cosentina. Quali sono le notizie che avete raccolto di recente sull'emergenza in corso? La zona dell'Alto Tireno Cosentino parte dal fondo Noce, quindi da Tortore arriva fino a Paola, Mantea, più o meno queste zone qua. Diciamo che è abbastanza omogenea la situazione nel senso che abbiamo paesi chiusi, la maggior parte, abbiamo delle ordinanze molto restrittive e partendo da Diamante, dal senatore Magorno, è partita questa iniziativa che poi ha coinvolto anche gli altri di controllare i parchi, è stata fatta un'azione capillare su tutto il territorio proprio per prevenire il contagio, anche se noi sappiamo che gli asintomatici sono adesso il vero problema e quindi si è cercato in qualche maniera di limitare appunto una, noi già da tempo abbiamo fatto un pochino uno per famiglia ad uscire, quindi insomma certe, queste diciamo questi decreti che sono stati uno appresso all'altra, che hanno creato anche abbastanza poca trasparenza nelle persone, la gente secondo me però le ha recepite nella maniera positiva, quindi è vero che ognuno si è più o meno adattato. Poi noi abbiamo degli ospedali, abbiamo l'ospedale di Praia Mare che è attualmente chiuso, c'è un mezzo diciamo pronto soccorso perché non ci sono i reparti dietro e qui è stata anche esclusa da questo piano regionale di riconversione e ci sono state delle proteste ma sappiamo che se è spogliato insomma sia difficile, come sia difficile ripristinarlo come terapia intensiva. L'ospedale centrale invece funziona abbastanza bene, addirittura c'è stata una colletta della popolazione per donare due respiratori, a questo aggiungiamo una grande gara di solidarietà, c'è, te la faccio in breve, in tutti i paesi si è organizzato per le persone over 65, non so per i documenti, per la spesa, per la farmacia, sono tutti tutti attivati tramite la Proloco, tramite la Caritas, la Croce Rossa, tutti sono organizzati per non far mancare niente alle persone e soprattutto per dare modo e agevolare che queste persone non escano di casa perché questo è l'imperativo. Quali sono gli spunti di ottimismo e quali invece quelli critici dell'emergenza? Allora chiaramente noi facciamo riferimento molto a Cosenza, all'annunziata, all'ospedale dell'annunziata di Cosenza attraverso proprio le informazioni che traiamo dal professor Mastroianni che è il primario di infettivologia e che ha sempre gentilmente spiegato come viene e adesso appunto ci ha proprio comunicato come funziona questo farmaco, questo farmaco sta ottenendo degli ottimi risultati e addirittura è stato chiesto un loro intervento dalla Norvegia proprio di spiegare come lo stanno usando e addirittura tramite un medico, il farmaco è quello che viene usato per la trite reumatoide e quello che è usato per la trite reumatoide lo specifico perché ha una particolare, svolge una particolare attività proprio a inibire completamente questo virus e stanno notando di addirittura a Bergamo hanno chiesto tramite questo medico che ha fatto il dottorato a Catanzaro, quindi era conosciuto dal professor Mastroianni, dovremmo addirittura esportare questo uso dell'ospedale di Cosenza a Bergamo, quindi quello che vorrei, ci tengo anche a dire perché seguo queste persone come quelli che operano a Cetraro, si sta facendo tanto e la situazione però è sotto controllo, è chiaro che tutti sappiamo che non deve succedere quello che è accaduto in Lombardia perché non abbiamo le forze, i numeri e questo io spero che finita l'emergenza noi capiamo che questo problema è regionale, non è Cetraro, Lamezia, Cotanzaro, no, noi abbiamo un problema sanità generale e regionale, qua ne voglio dire anche un'altra come mi ha detto il professore, noi dobbiamo anche considerare che siamo paesi piccoli, non abbiamo i numeri della Lombardia, non abbiamo il tipo di ospedale della Lombardia, quindi quando le persone con 3-4 patologie che sono purtroppo i destinatari di questo virus si presentano a fare le loro cure, è chiaro che corrono più rischi di quelli che corriamo noi perché abbiamo numeri diversi, poi il controllo non c'è stato nel primo esodo, non c'è stata questa, ma forse guarda si è sottovalutato un po' il problema, ma adesso è inutile fare dietrologia o dire cosa non ha funzionato, io penso che adesso bisogna stoppare e guardare in avanti e fornire alla gente quegli strumenti che li renda tranquilli perché lo stress abbassa anche le difese immunitarie, lo dicono tutti. Un pensiero per San Lucido che è uno dei pochi paesi assieme a Rogliano e a Santo Stefano di Rogliano che è stato chiuso nella provincia. Sì, è un pensiero a San Lucido che ha vissuto veramente delle giornate difficili proprio a causa di quel sistema di terrorismo tramite i social media, tramite Whatsapp e che appunto veramente una grande solidarietà a questo paese che con grande dignità ha cercato di far fronte a una forma, forse l'uomo ha tirato fuori la sua cattiveria, a San Lucido non c'è l'esercito, ci tengo proprio a smentire questa cosa, è stato chiuso, ci sono tutti i vari sistemi di sicurezza e ho proprio chiesto alle persone che abitano a San Lucido di in un certo senso darmi questa conferma, le persone hanno capito adesso, hanno capito e quindi possiamo anche confidare in un sistema di autoregolazione nostro di aver compreso e quindi di stare più attenti tutti, perché penso che adesso sia ben chiaro e quindi una grande solidarietà a San Lucido per quanto è successo, proprio vittime di questa azione mediatica, di questo mobbing mediatico. Grazie. 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 Grazie a tutti.